ragazzi ma che novità c'è, vinciamo tutto noi d'altra parte io di parole ormai ne sto perdendo perché dopo questa serata dei mondiali di ciclismo su pista ragazzi ci dobbiamo ancora una volta inchinare, ci dobbiamo ancora una volta inchinare di fronte all'oro eccezionale per me il più grande di tutti è quello di Letizia Paternost per quello che ha passato nell'ultimo anno e mezzo, per tutte le sofferenze, tutti i dubbi, tutte le perplessità che erano emerse su quest'atleta, la vittoria più bella è la sua meritava una gioia, una soddisfazione del genere ha letto la gara d'eliminazione in maniera magistrale, in maniera veramente di un'intelligenza pazzesca e ha vinto strameritatamente, strameritatamente in questa gara d'eliminazione prendendoci la medaglia d'oro ma veramente in ogni istante, in ogni momento della gara non ha mai tremato ha avuto sempre la freddezza, ha avuto sempre la glacialità, la chiamerei della campionessa che l'ha portata a vincere veramente strameritatamente ed ottenere una grande gioia, una grandissima gioia che ripaga i tanti sacrifici, ripaga le tante fatiche ripaga i tanti dubbi, ripaga le scelte fatte decisioni difficili, decisioni non semplici da prendere e poi tutto si quaglia e alla fine arrivi al mondiale e vince una medaglia che ha più valore delle altre che erano arrivate negli altri anni perché proprio questa arriva dopo un percorso difficile arriva dopo la fatica arriva dopo passaggi estremamente complicati nella vita proprio di questa ragazza e veramente non può che godersi e al meglio questa soddisfazione perché se la merita tutta se la merita tutta e veramente complimenti perché anche lei sul tetto del mondo e lo aspettiamo anche alle olimpiadi del 2024 dove probabilmente ritroveremo una letizia diversa rispetto a quella che avevamo visto nell'ultimo anno e mezzo dove a tratti non la riconoscevamo e invece adesso davvero abbiamo ritrovato la determinazione la classe di questa campionessa eccezionale campioni eccezionali sono sono quelli del quartetto dell'inseguimento ragazzi ma di che cosa stiamo parlando ma di che cosa stiamo parlando la Francia si è sfaldata completamente all'accelerazione di Filippo Ganna nel finale ha dato gas Filippo Ganna e per restare a ruota i francesi sono andati fuori di testa perché non è possibile hanno provato a fare il fuori giri per stare dietro all'accelerazione di Filippo Ganna è stato dietro uno e gli altri si sono persi per strada ma perché semplicemente ha 15 marce in più degli avversari Filippo Ganna e per batterti per provare a vincere gli avversari devono andare 25 volte oltre il proprio limite e di conseguenza questo non è possibile e quindi è impossibile battere lo strapotere assoluto di Filippo Ganna che anche stasera ragazzi quando è andato in testa au revoir au revoir au revoir au revoir alla France che quindi si deve accontentare dell'argento nel boato di Roubaix ci hanno tenuto testa per 3 km poi nel finale bye bye ciao ciao au revoir ci vediamo domattina al bar veramente Italia eccezionale dopo esser stati padroni dell'Olimpo padroni del mondo assolutamente i più forti in assoluto nell'inseguimento perché anche al femminile siamo andati fortissime seconda posizione dietro a una Germania che era imbattibile però bravissime davvero sono state le ragazze perché in semifinale con la Gran Bretagna hanno offerto una prova eccezionale l'hanno asfaltata completamente e arriva un bel argento arriva un bel argento da parte delle ragazze di grande spessore e domani c'è l'inseguimento individuale maschile dove probabilmente magari avremo una medaglia d'oro una medaglia di argento con Jonathan Milan e Filippo Ganna con Filippo Ganna che è il record del mondo nell'inseguimento individuale lo vuole tutto suo lo vuole riprendere perché lui è il padrone della pista è il più forte di tutti quindi i record devono appartenere soltanto a lui soltanto all'unico vero eletto ossia Filippo Ganna fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate non l'avete anche mi piace il video condividete questo video iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e a questo punto arrivi al finale e al prossimo video e al prossimo video